Buonasera e benvenuti al nostro consueto appuntamento con il telegiornale Per i Sorti. Lo stadio Artemio Franchi col progetto Arup non si farà mai, lo sanno tutti, è il segreto di Pulcinella. Queste le parole del leader di Italia Viva Matteo Renzi nel corso di una conferenza stampa oggi a Firenze. Il progetto, dice Renzi, non sta in piedi non dal punto di vista architettonico ma dal punto di vista economico. Oggi la situazione è andare allo scontro come propone il sindaco Nardella dicendo faccio causa allo Stato o cercare un accordo. La causa comune Stato è una follia, non c'è bisogno di fare causa ma di fare un accordo, ha concluso Matteo Renzi. E sempre Renzi si è occupato anche della vicenda legata alla scomparsa della piccola Cata ormai da 20 giorni. In questa città, dice il leader di Italia Viva, la procura dovrebbe pensare a sgomberare gli immobili o a sgomberare per tempo. Siamo la città degli innocenti, dice Renzi. Si parla degli appartamenti, dei costi di una camera di albergo e poi sparisce una bambina di 5 anni e stanno tutti zitti. Questa cosa mi fa uscire di testa. Io ritengo, ha concluso Matteo Renzi, la procura di Firenze moralmente responsabile del mancato sgombero dell'hotel Axtor. Partiamo adesso con la cronaca. Un uomo è morto stamani, poco dopo le 7.30, investito da un treno a Vernio, in provincia di Prato. Secondo i carabinieri, si tratterebbe di un suicidio. A seguito dell'investimento, la circolazione è stata sospesa dalle 7.40, venendo gradualmente ripresa alle 10.15 e tornando poi alla normalità alle 10.30. Nubifragio a Livorno questa mattina con 60 mm di pioggia in un'ora. Nelle ultime circostanze registrate, pensate, oltre 3.900 fulminazioni in tutta la zona. Lo ha scritto sui social il governatore della Toscana, Gianni, che ha aggiunto seguo in tempo reale con la sala operativa, la forte perturbazione che attraversa la Toscana, dove oggi e fino alle 8 di domani è allerta arancione per il maltempo. I temporali si sono abbattuti anche in altre aree della nostra regione. Nelle ultime ore anche oltretutto 4.300 fulminazioni, in particolare in altre zone costiere, oltre che a Livorno, molti millimetri di pioggia a Coltano, in provincia di Pisa, 40 mm a Colle, Salvetti e Cecina, piogge intense a Villa Franca, in Lunigiana. Sequestrati un anno fa ai fini della confisca, ora venduti ad un'asta giudiziaria per 4 milioni, versati poi al Fondo Unico Giustizia. Si tratta di oltre 8 milioni di metri lineari di tessuto di contrabbando destinato a ditte di confezioni di abbigliamento cinesi a Prato, intercettati e recuperati nel marzo del 2022 dalla Guardia di Finanza pratese, nell'ambito di un'operazione che aveva portato anche alla denuncia di 5 orientali. Valore totale del tessuto circa 12 milioni di euro. Un 31enne italiano è stato arrestato dai carabinieri perché trovato in possesso di oltre 120 grammi di cocaina. La droga è stata rinvenuta in un mobile nell'abitazione dell'uomo, originario della Calabria, e domiciliato nel territorio di Reggello, in provincia di Firenze. I lavoratori di opera, l'impresa che gestisce i servizi museali di Firenze, tra cui gli uffizi, il polo museale e l'opificio delle pietre dure, domani sciopereranno per mezza giornata con presidio nel piazzale degli uffizi alle 13. E su questo argomento ha parlato anche il sindaco di Firenze Nardella, che dice «È sotto gli occhi di tutti il significativo aumento di turisti in città e gli uffizi hanno un costante incremento di visitatori. È perciò incomprensibile che emergano le preoccupazioni per le garanzie occupazionali e contrattuali di chi garantisce da 25 anni l'apertura e i servizi che tengono alta la qualità di uno dei più importanti musei del mondo». Sono oltre 22 mila le famiglie che lo scorso anno hanno fatto domanda per il contributo affitti in Toscana. Nessuna di loro quest'anno potrà accedere ai sostegni dei fondi per il supporto agli affitti e la morosità incolpevole perché il governo ha deciso di non rifinanziarli. Il loro diritto alla casa è stato cancellato e con l'aumento dei tassi di interesse, del costo delle case e del prezzo degli affitti sono sempre più coloro per i quali questo diritto è a rischio. Lo ha detto il responsabile diritto alla casa del PD della Toscana, Francesco Battistini. «Torniamo alla cronaca. L'imbarcazione presa a noleggio non era autorizzata ad essere utilizzata per fini commerciali e allo skipper mancava la necessaria abilitazione. Per questo la Guardia di Finanza di Portoferraio all'Isola d'Elba ha elevato multe per oltre 22 mila euro in seguito a questi controlli. Divieto a qualsiasi titolo e finalità di stazionare in maniera prolungata, bivaccare o comunque pernottare sulle aree pubbliche cittadine non adibite a tale scopo a Siena. Lo stabilisce un'ordinanza, valida fino al 30 settembre, del sindaco della città del Palio, Nicoletta Fabio. E prima di concludere, uno sguardo alle previsioni del tempo per domani, sabato in Toscana, in nottata e nelle prime ore della mattina, nuvoloso o molto nuvoloso, con rovesci e temporali sparsi. Poi tendenza schiarite, seguite però da un nuovo aumento della nuvolosità cumuliforme associata a rovesci o brevi temporali. Venti deboli o moderati occidentali, i mari saranno mossi, temperature in calo le minime, massime intorno ai 27-29 gradi. Ed è tutto per questa edizione, grazie di essere stati con noi, arrivederci a domani.